Sta per partire ad Arezzo un corso di scrittura creativa. Lo organizza la FIDAPA insieme al professore Vittorio Graziosi. L'obiettivo sarà quello di ricavarne un'ontologia di scritti prodotte dalle stesse socie. È la prima attività importante di questo mio primo anno di presidenza. Siccome il tema nazionale quest'anno riguarda la formazione, la formazione per le donne è veramente molto importante nel lavoro e nella vita in generale, abbiamo pensato di organizzare un corso di scrittura creativa che per Arezzo è una novità per permettere proprio alle persone che lo frequenteranno di compiere sia un lavoro di formazione ma anche un lavoro psicologico, un lavoro catartico. Diciamo che la scrittura unisce un po' queste due cose perché la fantasia non è altro che una rappresentazione in qualche modo del nostro mondo inconscio di quello che abbiamo dentro da poter trasmettere, da poter condividere con gli altri. E il nostro ospite, il docente di questo corso appunto è il professor Vittorio Graziosi che ha molte esperienze. In questo campo ci potrà aiutare ad esprimere al meglio quello che è il talento delle nostre socie che è veramente grande, sono veramente tante, si mettono in gioco volentieri e sono disposte proprio ad andare avanti e portare avanti anche la nostra sezione. La scrittura creativa è praticamente, ha per finalità la narrativa pura per cui quello che cercheremo di produrre sarà poi l'espressione di un racconto, di un romanzo se uno lo ha nelle corde. Per questo prenderemo questi discenti per mano e cercheremo di aiutarli a individuare i punti cardine la tessitura delle parole ad esempio o la descrizione dei personaggi e tante altre cose, tante altre lezioni che hanno proprio implicito il bisogno di diventare scrittori.